Leo Pezzola che ha giocato una gara importantissima perché ovviamente ha dovuto sopperire alle assanze causa giudice sportivo lì dietro come ha detto mister Mancinelli pochi pericoli Sì oggi abbiamo fatto una grande partita, era una partita per noi fondamentale sappiamo che queste tre settimane sarebbero state delle tre settimane belle toste la scorsa già avevamo dato un segnale e oggi abbiamo dato la conferma che ci siamo tutti a prescindere da chi viene chiamato in causa e questo in una squadra è importantissimo soprattutto se ha un obiettivo importante come noi Mister non si è voluto sbilanciare ai nostri microfoni, possiamo certificare che San Benedettese è la squadra favorita oramai? Non solo per quello che ha dimostrato oggi Allora per ora stiamo andando bene però è lunga, mancano ancora quattro partite mi sembra alla fine del girone di andata, quindi ancora è lunga, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto ma se lavoriamo con questo spirito ogni domenica sicuramente siamo sulla strada giusta questo sicuramente